Torna premotente il nome di Polla come risposta risolutiva all'ormai prossimo stop del termovalorizzatore di Acerra che per 40 giorni dal 7 settembre al 12 ottobre prossimo chiuderà i battenti e i residui provenienti dagli stir. Una necessità per sottoporre l'impianto ai lavori di manutenzione che però getterà anche il Salernitano di nuovo in una situazione emergenziale. Da mesi si parla dei siti temporanei di stoccaggio che dovranno intervenire in aiuto qualora le due gare bandite da Ecoambiente per il trasporto e il recupero del Futa, frazione umida trattata aerobicamente e dell'FST, frazione secca tritovagliata, dovessero andare deserte. Si susseguono gli incontri in regione dove è stato illustrato il piano per l'emergenza e anche se molti nomi dei siti restano top secret, quella del vecchio sito Ergon di Polla, chiuso da 4-5 anni, torna ad essere considerato come un'alternativa molto probabile. Il sindaco del comune però continua ad opporsi. Dare la disponibilità una volta, ha detto Rocco Giuliano, non vuole dire darla per sempre. Polla ha già dato il suo contributo. Ma al primo cittadino sono state recapitate sollecitazioni e imposizioni e in ultimo si sta paventando anche l'intervento del prefetto di Salerno. Anche il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, ha lanciato un appello ai comuni della sua area per ridurre l'impatto dello stop al termovalorizzatore, spiegando che si tratta di rifiuti non inquinanti. A Polla, nello specifico, è stato promesso che verranno stoccate al massimo mille tonnellate e comunque di rifiuto organico, il futa appunto. Ma il territorio del Vallo di Diano non vuole capitolare. Non staremo fermi, ha detto Giuliano. Intraprenderemo tutte le strade per evitare che i rifiuti vengano portati qui. Tutto il territorio, tutti i sindaci sono con noi. Non è giusto che Polla debba pagare per ogni emergenza. Mi opporrò fino a che posso sui rifiuti. Siamo fermi a 50 anni fa. Anzi, la situazione è peggiorata. Ancora non c'è programmazione e siamo costretti a portare i rifiuti fuori regione. Intanto però è scattato il conto alla rovescia e da parte degli enti sovraccomunali sembra esserci la volontà di optare per il pugno duro in ragione proprio dell'emergenza.